Bella raga io sono DaemonGamer03 e oggi siamo sul continuo di Metro 2033 Redux E' da un po' che non portavo video sul canale ma ho avuto da fare e non sono riuscito a portare contenuti video E insomma adesso cerco di andare avanti con Metro 2033 a finire questo gioco E c'eravamo fermati qui raga Ok, vediamo che armi ci abbiamo Solo pompa E questo Si può provare Vediamo che c'è quella luce lì Li vedo, sono tutti vandi lì Sostituiamo il filtro Benissimo Benissimo Cerchiamo di non fare rumore Eccolo, eccolo che arriva uno, eccolo che arriva uno Vediamo se il momento giusto sarà Per attaccarlo Dai Vediamo se ci basa anche un altro coltello Eccolo, eccolo All right Seems clear So let's go up through the coming Egli, Egli Egli, 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 Egli Egli, 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 Egli Dove stanno? Cacchio, ho finito i colpi Ho finito i colpi, questa non ci voleva Ho finito i colpi Eh, là sopra, là sopra Lo sono asciutto il colpi Ho finito i colpi Questo è il fatto Eh, sento che sparano, ma da dove? Io non vedo nessuno Questo è il fatto Che non sia quella luce lì Che non sia quella luce Come se parla Non capire come salire di qua, qua sopra. Cioè, dovrebbe essere una salita da qualche parte. Ok, cerchiamo di non cadere, benissimo, benissimo. Ecco qua si sale. Ok, essendo che da un po' di tempo che non ci gioco adesso non mi ricordo come si faceva a curarsi. Qua c'è qualcosa, un po' di roba. Sto cercando soprattutto se trovo munizioni o cose così del genere. Sto trovando munizioni. Cercato. Sto trovando municuvo Pepperdine. Cercato. di qua si va da qualche parte non lo so non lo so dove si va però mi dice che c'è un forse sto facendo tutto giusto eh ma non credo che si riesce a passare perché appunto c'è questo grande pezzo di cemento della costruzione che ha ceduto e in poche parole non riesco a salire vediamo se trovo un'altra entrata qualche altra parte ci dovrebbe essere un altro posto dove andare quindi un'altra uscita oltre qua tipo uscire da questo luogo qua da questo posto e quindi praticamente entrare in un'entrata aperta però se non trovo l'entrata aperta è davvero difficile forse il video fa qualcosa forse di qua si sale forse di qua eh oh infatti lo sapevo però sento qualcuno sento qualcuno di non tanto amichevole perciò perciò C'è uno! 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 Sì, non ci sono No! No! Let's get the ball rolling! Look out! There he is! No! No! I'm gonna get you for this Man down Killed one Non muoiono facilmente questi Un colpo Non basta voi E muori È tanto difficile morire a lui A sto inizio Non lo so Raccogliamo un po' di munizioni Un po' di roba Importante Ok Credo che momentaneamente Quelli che c'erano Li ho fatti fuori tutti Questa porta Sono sopra sotto Taglio pisti Simpatici Un po' di luce poteva esserci eh C'è poca luce qui Si vede a malapena Non so ragazzi Tu mi hai ragione Si vede a malapena Quella visuale Devono fare più luminoso Il posto Però vabbè Questa 45 coppia a saldo Buono Stoppa Non ci tengo a sentire Qualunque suono era Che forse mi danno anche il copierai E spero di no Però io voglio il martello No stoppa 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 Bene Racconto un paio di munizioni Speriamo che bastano E ora dove si va? Domanda interessante Giù non credo E ho capito già dove si va E ho capito già dove si va E spero che sia la direzione giusta questa Sì più o meno la direzione giusta Ma non tanto piacevole Qui ci sono visite Molto amichevoli Questo momento si soffoca Molto amichevoli Mirna Sì, non è morto. Ok, sì, questa direzione è giusta, ma devo trovare un passaggio, forse è qua, non è questo il passaggio, forse è sotto, sì, era sotto il passaggio, pensa un po', io lo sapevo che era sotto il passaggio, ecco zio, ora sei fottuto, non scherzavo, hai sempre il culo, zio, è venuto qua il nostro amico, vediamo che ci dice, un attimo cattivo di sottotitoli, ah, devo arrivare a una stazione, ti aspetterò dell'aria abbandonata, ah, grazie zio, sei molto gentile a lasciarmi sempre da solo, qual era quello che fa più danno, non lo so, devo prendere questo per forza, mi dispiace che pompa, pompa col silenziatore, era buono, mi dispiace un botto per lasciarlo, però questo è molto più potente, proviamo questa visione notturna, vediamo come funziona, carino, molto bello, togliamolo, ci sta, qua c'è qualcosa, eh, qua non ci casco, so che è una trappola, vabbè raga, ma che direi, io mi fermo qua momentanamente, perché sennò il video viene troppo lungo, e noi ci vedremo al prossimo episodio di Metro 2033 Redux, quindi al prossimo episodio, bella raga, e un saluto dal vostro DemoGamer03, alla prossima!